gerusalemme gerusalemme che uccidi profeti e lapidi quelli che ti sono mandati quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del signore evangelo secondo matteo capitolo 23 versi 37 a 39